Al Vignano è già in forte fermento, due liste ai nastri di partenza, forse tre, per le prossime elezioni comunali. Una vede candidato a sindaco, l'imprenditore Massimo Ponticorvo, amministratore uscente e già presentata agli elettori pochi giorni fa, sostenuta dal sindaco uscente Angelo di Costanzo e poi da Maria del Santo e il medico Franco Lavecchia, che sarà opposta al provveditore di studi, ora a riposo, Angelo Marcucci, già pronto con una sua squadra. Ma una terza potrebbe essere costituita prevalentemente da giovani e nasce da un movimento denominato il Laboratorio delle Idee. Insomma, i pretendenti alla conquista del municipio ci sono e lo dimostra anche la febbre elettorale già abbastanza alta nel piccolo comune dell'Alto Casertano. Noi abbiamo sentito in questa prima intervista, che ora manteremo in onta, Angelo Marcucci. Allora, ispettore scolastico, provveditore agli studi di Benevento, adesso in pensione. Che cos'è che l'ha spinta a riprendere la politica? Più che un'iniziativa personale, che comunque viene dal fatto di dare un contributo come cittadino, è venuto dall'invito di molte persone, molti amici, molti cittadini, che mi chiedono di mettere a disposizione l'esperienza sia di vita, sia un po' amministrativa precedente, ma soprattutto di un uomo che è stato a disposizione diciamo delle istituzioni. Ecco, questo in particolare. Qual è secondo lei l'esigenza, siamo più forti, della città di Alvignano? Ma io credo che le esigenze sono tante, soprattutto però quella di dare una serenità, di trovare una forma di equilibrio tra posizioni opposte che da un po' di tempo si scondrano e quindi cercare di rasserenare un po' gli animi e soprattutto lavorare con più tranquillità. E poi esigenze di dare riscontri un po' ai vari settori, l'agricoltura, l'artigianato, il commercio, cercare anche qualche sito industriale e cercare soprattutto di far funzionare la macchina amministrativa. Ecco, secondo lei c'è qualche settore che ha più bisogno degli altri? Qual è il tema che lei sente di più? Beh, io credo che in particolare l'agricoltura e l'artigianato, ma il commercio che è una diretta poi conseguenza, ha necessità di attenzione massima e credo che questo si possa fare se si lavora con molta determinazione e con idee molto chiare. Ecco, Alvignano si vede adesso un certo spopolamento nella parte del centro di Alvignano. Lei pensa di trovare qualche soluzione ad un recupero? Io credo di sì, soprattutto cercando di mantenere in piedi, di far mantenere in piedi le attività, perché molte aziende... Diciamo le piccole aziende. Le piccole aziende chiudono e dovrebbero essere un poco, come dire, agevolate, soprattutto su tasse che sono molto elevate e lì bisogna cercare di trovare il modo per abbassarli. Insomma, fare in modo che queste aziende, queste attività, possano trovare la forza di andare avanti e quindi una gestione familiare che possa dare riscontro alle esigenze della famiglia stessa. Ecco, un'ultima domanda. Perché dovrebbero votare a lei? Ma credo per i motivi precedenti, soprattutto perché vorrei rappresentare una forma, diciamo, di mediazione tra queste posizioni opposte e cercare di trovare una forma di collaborazione generalizzata nel Paese. Ha la possibilità adesso di lanciare un messaggio ai suoi elettori? Beh, se si ritiene di votarmi, io credo che la mia disponibilità è totale. Da Alvignano è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it